Certo, non è Salomone, ma... Salomone? Il risaggio della Bibbia. So che non è quel tipo di uomo, ma chiunque navighi tra le cascate del corteggiamento amoroso rischia di essere travolto dalle sue acque schiumose e non apparire al meglio. Cosa? Ho una sola parola per voi, Reginald. Comprensione. Ammiro il vostro modo di ragionare, ma temo non comprendiate quanto potete intimidire il prossimo, specie un giovane nei confronti del quale potete vantare posizione. Aspetto, carattere. Sir James Martin è sciocco per colpa mia. Sì, al vostro confronto è uno sciocco. E non al confronto di tutti? No. Ma ha dato a tutti la stessa impressione. Perché tutti l'hanno visto accanto a voi. Negate i sentimenti di Sir James per voi? Per me? È chiaramente perso per voi. È di Frederica che è innamorato. Questo è impossibile. L'ha chiesta in moglie. Come potete permettere a un tale idiota di corteggiare vostra figlia, è incomprensibile. È incomprensibile per chi è ricco e agiato. Voi potete salire su un piedistallo e impartire giudizi morali. Se solo immaginaste quanti giovani ridicoli debba sopportare una fanciulla senza dote, sareste più generoso con Sir James. Sì, čeri. Grazie a tutti